attenzione Manisco dalla media distanza serve infine il numero 11 Manta può girarsi, brucia un giocatore, Manta gol! Gol di Manta 1-0 Cedas Cedas in vantaggio contro il Mesagne che giocata ha fatto? mamma mia prova a fare tutto solo, spera adesso verso Manta! Gol! regolarissimo regolarissimo questo gol di Manta attenzione adesso tocca la formazione della Cedas Manta, tutto solo dinanzi alla porta, 3-0 Cedas 3-0 Cedas, gol di Manta tripletta di Manta porta il pallone a casa oggi Manta da grande bomber Andrea Manta Marchionna attenzione Casarino adesso ex Lecce, spera a dare parti di Boccarelli può andare Boccarelli ma al tiro! Gol! 4-0 Cedas grandissimo gol di Boccarelli gol di Boccarelli attaccante vero la piazzata proprio lì buca d'angolo e veramente grande gol 4-0 partita già chiusa nel primo tempo adesso nettamente si vede che Mesagne sta già a casa siamo qui con Cagnazzo in manisco della Cedas Savio Brindisi allora ragazzi partiamo da Cagnazzo come hai visto questa gara vittoria importantissima più 2 dal Mesagne beh come dice il nostro mister come ci alleniamo giochiamo quindi durante la settimana abbiamo fatto bene ci siamo molto impegnati per appunto fare una buona prestazione questa domenica e il risultato ci ha premiato la tua impressione sul risultato? sì sicuramente è stata una buona partita e alla fine poi quando si gioca bene il risultato viene da sé per quanto riguarda le indicazioni che vi ha dato il mister soprattutto nel primo tempo dove avete sbloccato la gara come le avete viste e soprattutto come le avete applicate? beh le indicazioni del mister sono sempre diciamo delle correzioni su alcuni nostri sbagli quindi il mister che ha una visione diciamo più dettagliata del campo ci aiuta un poco a stare appunto a sbloccare i risultati a giocare meglio a capire dove sbagliamo e quindi di conseguenza è stata una bella gara insomma sì per quanto riguarda invece il vostro compagno Manta triplette impressionante ve lo aspettavate? beh da Manta non sapevo mai cosa aspettarci perché alla fine è da molte giornate che continua sempre a fare gol e fa sempre la differenza e anche oggi si è visto il campo comunque quest'oggi c'è stato un grande merito da parte della difesa beh sì anche in settimana abbiamo fatto molti esercizi appunto per la difesa sulle posizioni ci siamo molto impegnati diciamo forse avete anche studiato un po' la posizione di profilo nel campo il bomber del Mesani beh sì il mister ci ha parlato anche in settimana di profilo perché ci ha detto che è un buon giocatore che si infila in tutti gli spazi ci viene sempre a rubare la palla però come abbiamo visto oggi non è riuscito perché abbiamo due ottimi difensatori centrali che non sono riusciti a farlo giocare grazie mille ragazzi siamo qui con Marco Sanna dell'annunziata Mesani allora un 4 a 0 che sicuramente vi affossa soprattutto dal punto di vista psicologico ma come avete visto questa gara guarda sì dal punto di vista psicologico è stata una brutta batosta però sono convinto che i ragazzi reagiranno molto bene dal punto di vista della gara devo dire che il 4 a 0 forse è un po' pesante è meritata la sconfitta però il 4 a 0 forse è un po' pesante un paio di gol in meno sarebbero stati più giusti un primo tempo dove i nostri ragazzi sono stati molto contratti forse hanno sentito molto la partita contro una bella squadra molto ben organizzata con ottimi elementi il secondo tempo molto più sciolto abbiamo girato molto meglio palla solo che non siamo riusciti a concretizzare bene il possesso palla il resto è una bella partita tra due ottime formazioni che continueranno secondo me a dare battaglia fino alla fine del campionato e vedremo poi al ritorno come andrà spero bene per noi Profilo non è riuscito ad insinuarsi spesso in questa gara a merito anche di una difesa ineccepibile della Cedas sì sì il nostro Vincenzino brevilinio non è riuscito oggi a creare scompiglio soprattutto merito anche dei difensori che sono stati molto attenti tutta retroguardia anche noi ci abbiamo messo nel nostro non siamo riusciti ad essere decisivi ad essere incisivi non abbiamo avuto quella cattiveria che di solito ci contraddistingue comunque un'ultima domanda nonostante fosse una partita in trasferta vi sareste aspettati questa sconfitta no la sconfitta onesto così non me la sarei aspettata anzi forse avrei creduto che potevamo metterci qualcosa in più un po' più di grinta sì abbiamo affrontato sempre sapevamo di affrontare una squadra comunque in forma veniva da risultati positivi comunque si sa che comunque la Fiat è una bella formazione una bella società una bella struttura però questo 4-0 non me l'aspettavo soprattutto il primo tempo non mi aspettavo come ho detto prima dei ragazzi troppo timorosi però è andata così purtroppo non possiamo farci niente ci vedremo vedremo a ritorno come andrà speriamo in una partita molto più diversa con un piglio molto più aggressivo fin dall'inizio siamo qui con mister Paolo Russo della Cedassia Febrini vice allenatore di mister di serio allora come hai visto questa gara come hai visto questa vittoria importantissima per la vostra squadra più due dal mesagne e finalmente siete primi buongiorno a tutti sì la partita diciamo è andata come l'abbiamo preparata in settimana l'abbiamo lavorata in questo senso cercando di di aggredirvi già dall'inizio per sbloccare il risultato infatti ci siamo riusciti nei primi minuti poi è venuto pure il raddoppio la partita diciamo si è messa come l'abbiamo preparata ecco quindi tranquillamente i ragazzi hanno giocato come dovevano giocare senza lasciare spazio agli avversari e quindi diciamo complimenti alla mia squadra quanto riguarda gli avversari ho visto una buona squadra devo fare pure complimenti al mister Piglieco che è un amico e niente adesso siamo primi in classifica cercheremo di mantenere questa posizione anche perché i ragazzi lo vogliono nel modo più assoluto e quindi vedremo la prossima partita contro il Francavilla sarà una partita più difficile già da giovedì prepareranno pure questa partita al meglio possibile diciamo un grande manta sicuramente su tutti i punti di vista Andrea non lo scopriamo noi insomma è un ragazzo che si applica molto serio anzi mi meraviglio che l'anno scorso nessuno diciamo si è portato via quindi c'è un ragazzo umile che lavora per la squadra per se poi diciamo si impegna tantissimo in allenamento tecnicamente cioè è bravissimo diciamo un calciatore ecco un calciatore che si sta formando giorno per giorno diciamo ogni ogni giorno si allena diciamo col massimo impegno e bravo 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 ragazzo come vede adesso mister Paolo Russo il proseguo di questo campionato ma guardi l'ho detto pure l'altra volta a me personalmente i risultati sì chiaramente ci teniamo a vincere andare avanti con questa mentalità però a noi è importante formare i calciatori ecco e ci stiamo riuscendo parecchi ragazzi anzi tanti 2001 stanno uscendo fuori il secondo tempo ho visto delle belle cose con qualche provinciale che oggi ha ha giocato pure quindi questo per me per quanto mi riguarda è importante il risultato è soltanto per i ragazzi sono loro che hanno la voglia di vincere di portare avanti diciamo fino alla fine questo obiettivo che per loro è importantissimo e niente vedremo come andrà a finire insomma certo la prossima partita con Francavilla ci dirà se possiamo diciamo puntare a vincere questo girone che sarebbe pure una bella cosa anche per la società che sta lavorando tantissimo quello che sta facendo in questa città diciamo è una cosa unica perché la struttura i ragazzi e niente le persone che la domenica vengono a vedersi la partita la prima squadra che hanno formato sta lavorando benissimo e quindi il merito è anche loro grazie grazie Grazie.